Disintossicarsi dagli eccessi del digitale, questo è l'obiettivo del progetto Digital Detox, promosso dalla società di consulenza Gruppo Iovine, coordinato dall'esperta di comunicazione Italina Pastore. Quattro le scuole coinvolte nel percorso che ha preso il via nel teatro del liceo Sabatini Menna di Salerno. A parte l'istituto di via Urbano II, anche il Trani Muscati, liceo scientifico da Procida e il Margherita Hac di Baronissi. Isolamento, ansia, depressione, difficoltà di concentrazione ed ancora stanchezza prolungata. Questi alcuni degli effetti dell'abuso di smartphone ed altri dispositivi digitali al centro del progetto che vuole portare ad un uso corretto di queste attrezzature. Due momenti principali, l'incontro con Alessio Carciofi, manager e coach di Digital Detox e quindi Z Generation, un focus con gli studenti. Cerchiamo di recuperare le emozioni, il corso è cominciato con un abbraccio che il docente Alessio Carciofi, un docente che è esperto di Digital Detox e quindi di digitalizzazione responsabile, ha chiesto di farsi l'un con l'altro ai ragazzi ma anche ai docenti che erano presenti. Siamo tutti quanti un po' dipendenti da questo strumento e questa dipendenza ci fa dimenticare delle cose importanti, per esempio il rapporto con la natura, il rapporto con noi stessi, il rapporto con l'altro. L'abbraccio che il docente ha chiesto di fare è veramente un insegnamento importante perché tra di noi dovremo abbracciarci un po' di più, toccarci un po' di più e magari mandarci qualche messaggio in meno. La nostra più grande soddisfazione è stata quella di avere l'attenzione dei ragazzi perché in un'epoca di distrazioni digitali avere dei ragazzi che hanno uno sguardo frontale e non calato, questo per noi è un motivo di grande soddisfazione. Quindi l'evento di didattica innovativa di oggi ci dà già una risposta positiva. Diciamo che oggi si parla anche di nuove patologie, quindi i ragazzi c'è proprio la nomofobia, quindi la paura di non essere collegati, di non avere il wifi, quindi diciamo quello che noi cerchiamo di recuperare è anche l'esserci, ma l'esserci in contatto con l'altro, quindi anche l'empatia, l'attenzione, il leggere un libro e non solo un ebook, quindi il fatto che abbiano iniziato questo focus sull'uso consapevole degli smartphone con l'entrare in contatto proprio fisico con gli altri, noi siamo contenti.